Buonasera a tutti, siamo con il migliore in campo, Arcidiagono Francesco della squadra Bar Pistorio. Buonasera Francesco. Ciao, buonasera a tutti. Partita che si chiude con risultati 4-2 per la tua squadra. Una gran bella partita, ricca di occasioni, di tiri in porta, in cui voi sicuramente avete dato qualcosa in più. Siete stati più concreti alla fine rispetto agli avversari. Ci sembrava una partita molto più semplice, dato la classifica, invece si è rivelata una partita molto insidiosa. Siamo riusciti a vincere, fortunatamente, ma è stata una partita molto agonistica. Quindi molti falli, molte vedate, però abbiamo combattuto, diciamo. Siamo riusciti a vincere, grazie al nostro bomber che ha fatto una tripletta, mi sembra. Sì, infatti è stato un secondo tempo in cui la squadra avversaria ha cercato di capovolgere un risultato. Alla fine senza riuscirci, ma dove sicuramente entrambe le squadre avete dato il massimo. Sì, non ci siamo risparmiati su nessun pallone, si correva su tutti i palloni e l'agonismo l'ha fatto da padrone. Magari pochi tocchi di belle giocate, però molta, molta aggressività c'è stata in campo. Sicuramente ancora c'è del tempo, quindi potrete fare meglio nelle prossime giornate che vi aspettano. Sì, sicuramente, ancora abbiamo l'ultima partita dell'andata e poi tutto il ritorno per confermarci alla grande. Ok, ti consegno questo buono per te che sei il migliore in campo, ti faccio ancora i miei complimenti. È tutto dal torneo Match Talent, buonasera.